Stasera faremo intesa vincente insieme a Michelle, il presidente, Chiara Kodomo-Yuki e Merisiel. Allora, categoria cibo, partiamo, vai. Vai. Cosa voglio farmi indovinare? Sì, parti pure tu, scegli una delle tre. Dovete farmi indovinare. Scelgo l'ultima. La. Mangi? Quando. Ah, quando vuoi? Dimagrire. Eh? Verde. Ok. Dobbiamo continuare a sto punto. Dobbiamo continuare. Eh no, ha fatto il suono, ha fatto il suono, chiaro. Ho fatto, era un suono, Will, era una prerotazione. Dai, che ce l'hai? È insalata. Eh, non va. Eh, ho capito, ma cazzo, ma come fai a imbroccarla? Ma è difficile, lattuga. Eh, oh, è un gioco. Eh, era lattuga. La prossima. Questa qua. Eh? Grossa. Verde. Con. Semi. Neri. Eh, ok. Sì. Anguria. Poteva sviare questo verde. Ok, ultima parola, Chiara. Marrone. Eh? Sì. Mangia. Nella vaschetta. Nel vaschetta. Simile a cioccolato. Nocciola. Oh. Brava. Ok, due punti per Chiara. Allora, prossima è Mary a dover indovinare. Facciamo io e Michelle. Allora, la prima parola. Ti ha nel petto. Cuore. Ok, brava. Dovresti prenotarti. Brava. Così capiamo quando vuoi parlare. Però va bene, ok. L'hai presa comunque. Seconda parola. Ricopre. Tutto. Il. Corpo. E. Rosina. Pelle. Bravo. Grazie. Terza parola. Sì. Sì. A. Ma basta con questo A. Basta con questo sì, no? Che cazzo. Comunque iniziamo le foto. Sopra il collo. No, te l'ho fatta niente. Sì, a sopra il collo. Nesta. Bravissima. Bravo, Mary. Mi è tre. Tocca a me indovinare. Vai, è partita dall'alto. Inizio io? Sì, sì, parti dall'alto. La. Usi. Per. Fare. Esperimenti. In. Laboratorio. Piccola. Creatura. Dopo. Cavia. Sì, cazzo. Ma è proprio un animale che si chiama cavia? Sì. Sì, sì. Parto io? Ah, vai tu, vai tu. Da sua partita. Lo. Schiacci. Quando. Lo. Incontri. Nella. Stanza. Marrone. Piccolo. Scarapaggio. Perfetto. Terza parola. Vola. Dentro. Casa. Quando. Rompe. Il. Cazzo. Nel. Orecchio. Ah. No. No? Ma ormai è vomitato. Cioè, dillo. Zanzara? Era mosca, lo sapevo. Gli dobbiamo dare il sicuro. Non lo sapevo. Sicuro, lo sapevo. Allora. Mi raccomando, eh. La prima. È al. Sul dire al. È al. 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 Interno. Delle. Vene. Sangue. Bravo. Ok. Prossima. A. Cinque. Mano. Mani. Perfetto. Ma così non vale, ma ragazzi. Vabbè, ho capito. Prossima parola. Impegnati. Quando. Sei. Adolescente. Ne. Hai. Tanti. Singolare. Brava. Ma che cazzo vuol dire? quando. E. Sono. Schiacciabili. Sì. Brufolo. Bravo. Vado, Maria. Sì. Sì. È marrone. Fuori. È cibo, eh. Mi raccomando. È beige. Internamente. Si. Mangia. Prima. Di. Sport. Hai capito, no, Michelle? Beige. Mi conviene andare avanti. Scusa, è barretta, Mars. No. È troppo da. Seconda parola. La. Mangiata. Il. Personaggio. Mela. Brava. Vai. Li. Da. Ma. No, scusate, non volevo integrarmi. Mi ero mutato, non so, non ne ho partecipato anch'io, scusate. Li. Mangia. Braccio. Di ferro. Piraci. Oddio, sono due parole. Eee. Vabbè. Bravi. Vabbè, anche prima qualcuno, perché qualcuno ha detto la. Di ferro. Inizio io, quindi. Sì. Ricominci tu. Io e te, Mish. Vai. Vai. Personaggio. Eh, tipico. Di. Halloween. E. A. Un. Rufolo. Sul. Naso. E. Vola. E. Ha fatto E, ha fatto E, ha fatto E. Ha vomitato, ha vomitato, ha vomitato. Scusate. Eh? Sì, 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 sì. Strega. Brava, Mish, brava, Mish. Brava, bravo. No, iniziate, iniziate. Nel. Bondage. Bondage? Lo fa nel bondage? Eh, però aspetta. Eh, aspetta. Ti. Usa. La. Corda. All'infinito. Ustio. Ma è chi una rana, veramente. Ha bocca aperta, quindi. Per straridere. Cazzo ne so che si fa nel bondage. Io non lo faccio, il bondage. Verbo. Eh, lo. Fai. Sui. Polsi. Eh, prigionieri. Manettamento. Che, non lo so. Manettamento, vabbè, rimaniamo con manettamento. Era legare, comunque. Era legare, era un cazzo di verbo. Eh, questo non è semplicissimo, eh. Mish, inizio io. Eh, capirai. Eh, è. Una. Persona. Che. Fa. Scherzetti. Modo. Di. Dire. È. Maschile. Singolare. Vabbè, sparala. Eh, o andiamo avanti. No, non lo so, regà. Mi sto poi messa a girare la testa con questa mascherina, mi sto prima il cervello. Non lo so. Non lo so. Era un burlone. Merito. Cazzo. Prima parola. Ci abitano le persone. Può essere molto piccolo. Con due parole. Sì. Per aprire c'è la chiave. Casa. Eh. Seconda parola. Ti stai a Milano. Appartamento. Allora, le porte si aprono così. Le porte si aprono così? Beh, immagina poi. Con oggetto chiavi. Bravo, vedi? Lo vedi? Brava. Brava me, ragazzo. Striscia. Sulla? Terra. Vicino. Alle? Mele. Lombrico. No, quasi, cazzo. Era verme, era verme. Siamo giusti? Le ho cambiate? Le ho cambiate? Sì, le hai cambiate, le hai cambiate, le hai cambiate. È un serpente velenoso. Nero. Piccolo. Lo? Trovi? Vipera. Grazie. Sì, perché la frate è quella che sta sotto casa tua, capito? Ma come mi aspettavo di cese biscia. Inizia a tagliare. Ispettore. Che? Cerca. Prove. E? Agente. Con? Una? Lente. E? Investigatore. È una poesia? No? Dovevamo aggiungere aggettivo. Esatto. Cos'è? Investigativo. Eh? Non è fanno culo. Le regole sono uguali per tutte. Intesa non vincente. Vai, ultima. Prossimo. Rotonda. E? Si usa per giocare con i? I? Fratelli. I fratelli. Vabbè. Palla. Sì. Ok. Quando volete. Allora, prima parola. Quando ti fai male, potrebbe non restare. Che cazzo resta? Eh, stiamo sbagliando tutto, Sven. Provi a provo, cicatrice. Vai. La usi per mangiare il cibo e dare i bacini. Puoi usarla. Eccoci qua. Per dare i bacini? Ma che cazzo di baci date? Trucchi. Ma pompini! Bambini? Ma che vuol dire, Karen? Ho detto pompini, non bambini. Aspetta, no. Hai capito, Delu? No, non ho capito il cazzo. Ma come no? Ma no, devo rimettere insieme i tasselli. Siamo a dodici parole, come cazzo faccio? C'ho la memoria di un pesce rosso. Ripetimi al volo. Puoi usarla per mangiare. Per dare i bacini e per fare i pompini. Delu, ma da dove cazzo esci? Da un convento, qualcuno. Raga, ma voi leggete la cosa? Io no, che cazzo ne so. Lo usi per mangiare? No, aspetta, lo usi per mangiare. Ripeti un attimo, lo usi per mangiare. Lo usi per mangiare, per dare i baci e per fare i bocchini. Ah, la bocca. Ma ho capito, ma io pensavo fosse la forchetta. Infatti dicevo, che cazzo usano la forchetta per fare i pompini? C'è un problema. Vabbè. Vai. Serve per capire un lingua diversa dalla tua. Traduttore. Traduttore? Quasi, quasi. Tradurre. Tradurre. Un. Frutto. Lungo. E? Giallo. Banana. Sì, banana. La parola più facile, esistente. A capire, si può sbagliare anche quella più semplice. Passa. Con. La. Macchina. Traffico. Limitato. Centro. Ma è la ZTL? Prima parola. Eh no, vabbè. È andata, mi dispiace. È andata. Era la zona. Anche perché ti abbiamo detto traffico limitato, quindi. Ci. Vai. Per. Bere. E. Parlare. O. Per fare solo. Per fare. Oh cazzo. Baranza. Discoteca? No. E' bar. Effettivamente abbiamo detto per bere. Piazza. Eh, mi veniva solo pub o bar. No, volevo dire drogarsi, però. Non volevo dire pipazzi solitamente, però. Drogare. Spacciare. Mi hai fatto certo. Sì, no, non sapevo come dirti droga. Nel senso, era l'unica cosa del mio. Ragazzi, ultimo turno. Stavolta con il limite di parole. Quante ne mettiamo? Sette a testa? Sì. Aiuto, aiuto, dai. Aiuto, ok. Vai. Lo. Usi. Nel. Caffè. Mescoli. Aspetta, scusa. Cucchiaio. Vino. Cucchiaino. Eh, ci provo. Vai. Zucchero. No. Vai. La. Prova. Quando. Non. Vuole. Eh, fidarsi. Tu. Io, io che? Che cazzo io, care? Non capisco. Ma come a caso? Banana. Che cazzo vuol dire a caso? Eh, tu fidanzata. Sei. Insicuro. Mio. Ah, ok, scusa. Che cazzo aggiungiamo? Comunque. Emozione. Eh, emozione. Eh, paura. Oddio, regà, non mi viene. Tu sei mio. Ho detto anche fidanzata, eh. E il cara ne ha detto tu sei mio. Gelosia. Brava. Ok, vai. Sono. Dentro? Sotto, scusa. Sono sotto. Dai l'occhio, eh, perché qua questo mezzo punto sta volando. Punta malà come due. Vai. La. Città. E. Maestro. Ma che cazzo è, maestro? Ma l'ha detto, l'ha detto. L'ha detto, l'ha detto. Maestro Splinter, maestro Splinter. Ci sono le tartanughe ninja. Ma le tartanughe ninja. Ma come? Ma ha detto, l'ha detto le fogne, l'ha detto le fogne. Miaghi, cos'è? Ma come ti è venuto? Mary. Ah, ok, eccoci qua. Cioè. È. Un. Sentimento. Che. Identifica. Ma guarda la stessa cosa, Michelle. Una. Paura. Grande. Aggettivo. Sai che siamo oltre. Ma questo è difficile, Mary. Ma no, 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 manco troppo, no. Si è partita male, colpa mia. Ma è un aggettivo, paura, identifica paura. Mary, provaci, buttati. Terrore. Cazzo, ce l'hai quasi. Spaventoso. Troppo specifico. Ce l'hai quasi, bello però. Sì, sì, sì. Iniziate. Si fa quando infrangi una legge. Reato. Yeah. Brava. Yeah. Ok, ultima. È un dessert. Dolce. Yes. Lei è un buono. Cara e Mary, per Michelle. Mary, mi devi capire. Mi devi capire, ok? Sì. Abbiamo fatto. Ma che sa... Vinto. Abbiamo fatto. Ha vinto? Sì. Ragazzi, ma siete pessime. La guerra. Sì. Abbiamo vinto la guerra piccola. Più o meno. È veramente... Cioè, è in realtà una parola veramente facile, solo che... C'è la mia. Brava! Brava! Oddio. È incredibile. È incredibile. Non farle complicate, cara. È sopra al cavallo per sedersi e... Eh, vai, mi spira, eh. Queste sono state brave, eh. Vai, incomincia tu. Lo usi per scrivere e... Bianco. Lo usi per scrivere e... Ah, foglio. Bravo! Let's go! Dai, deludio, tocca a te. Quindi, io e Mary? Sì, tu e Mary. Inizi tu? Sì. Stanno... Nelle... Grandi... Città. Tipo... New York. Sono... Degli... Palazzi. Grattacieli. Bravo! Grattacielo? Grattacielo. Dai, vabbè, al singolare ci sta, ragazzi. Ci siamo i pezzi del merda. O per dire metropolitana. Ok, next. Si fa dentro le piscine. Dipende chi fa cosa. Un po'. Sopra i... I trampolini. Tuffi. No, però... Capriola. Però c'ha ragione perché si fa, abbiamo detto. Era tu matore. Allora, next. Lo... Fanno... Le... Modelle. Durante... Una... Show. Sfilata. Aspetta, aspetta. L'hai detto? Sfilata. Allora. Vai, Gok. Allora, iniziate da lui. Allora. Le... Scrivi. Al... Mare. Per... Inviarle. Via. Posta. Non. È. Una. Cartolina. Le scrivi per posta, non è una cartolina. Le scrivi per... Per scriverla... Che cazzo abbiamo detto? Le scrivi al mare, le mandi per posta, non è una cartolina. Esatto. Ma che era? Eh... Vabbè, va bene, dai, va bene. Comunque, non te ne sei accorta, ma sei girata di un po'. Sei, ci stai quasi dando le spalle in live. Un po' più a destra? Mettiti un po' più a destra. Non è vero? Non è vero. Non è vero. Un culo. Vai. Eh? Un? Pianeta. Molto? Piccolo. Pianeta piccolo? Qual è il pianeta piccolo? Allora, la Luna non è un pianeta, è un satellite. No, sì, vabbè, però è una misconcezione quella, l'abbiamo sempre chiamato così, dai, anche se non... La Luna. No, aspetta, no, aspetta, sta buona un attimo, facci continuare qualche parola. Ah, ormai è sbagliato. Dai, vabbè, sì, era Plutone, è un nanopianeta. Vabbè, ho capito, è un esopianeta. Vabbè, 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 lì, vedi, cinema, film. No, i popcorn, che cazzo guardi? Beh, io effettivamente sì, guardo solo i popcorn, vai. Ma poi per... A parte che non ho perso punto primo, punto secondo, punto secondo... Ma che cazzo c'è? Chi fa i pompini con le forchette, scusa? Chi fa i pompini con le forchette.